ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi continuiamo a parlare di project car 2 quest'oggi parlerò di tre argomenti riguardanti project car 2 allora due sono su richiesta di Gianni e di Nicola che abbraccio affettuosamente si tratta del replay e della funzione photo mode e l'altra è un approfondimento rispetto al force feedback e alle mie ultime esperienze allora faccio una carrellata rapida rapida per quanto riguarda la funzionalità del replay che vedete dietro il ralenti e del photo mode perché sostanzialmente non è cambiato moltissimo è stato un po migliorato e qui sto parlando del replay nel senso che si ha la possibilità di fare una specie di rotazione delle inquadrature delle telecamere che insomma si possono si passa dal paraurti agli interni bordo pista il problema è che sono fisse non si possono modificare non è personalizzabile le funzioni che hanno aggiunte è la rotazione automatica appunto di queste telecamere la possibilità di fare un ralenti e la possibilità di avanzare rapidamente mettere in paso insomma un ralenti veramente basico cioè un replay veramente basico quindi una funzionalità che non non è che lascia il tempo che trova però insomma potevano fare qualcosa di meglio la possibilità di scegliere le inquadrature insomma per chi ama fare video soprattutto spettacolari e piuttosto che gameplay particolari insomma questa funzione manca è limitante per chi è amante di queste cose qui per quanto riguarda il photo mode cambia un pochettino rispetto al primo capitolo perché ci sono sempre tutti sti filtri c'è la possibilità di gestire tutte le funzionalità come se fosse una macchina fotografica il che è bellissimo l'unica pecca è forse questa macchinosità per poter ottenere la posizione dell'inquadratura che si vuole però tutto sommato è una funzione che rende molto bene e si possono veramente fare degli scatti bellissimi e in tutte praticamente le inquadrature che si vogliono quindi qua onestamente la funzionalità funziona è fatta bene quindi nicola visto che tu sei una passione di fono bond se sei tentato prendilo pure project car perché anche se è un po macchinoso si fanno degli scatti veramente bellissimi vorrei attardarmi un po di più per però su un argomento che è un po spinoso perché max pain che ha commentato l'ultimo video giustamente mi suggeriva di andare a scaricare un file personalizzato di un famoso youtuber inglese ed è quello che ho fatto prima di dirvi cosa cosa è cambiato e non è cambiato per mettere alla prova la fisica di di project car ovviamente si come che si fa si guida e in base alle sensazioni che si hanno sul volante il force feedback si può fare si può dare un giudizio di com'è io non ci sono messo parecchio e ho preso una combo particolare prima in un test privato in cui la macchina si comporta in un certo modo e poi sul leaderboard nello specifico ho preso una lamborghini huracan che mi piace tanto ve l'ho detto in gt3 su imola nel test privato la macchina realmente si comporta in un certo modo è come se fosse più controllata aiuti disabilitati eccetera eccetera sul leaderboard è come se fosse condizionata io penso che sia una specie di limitazione che i ragazzi della slide di ma di studio hanno forse messo però diventa inguidabile quando vi dico inguidabile che la macchina si gira a 180 gradi senza motivo logico impossibile fare le curve in decelerazione in mezzo cordolo la macchina si gira diventa praticamente quasi assurdo come dicevo una macchina non può sempre tentare di ucciderti e farti girare cioè non ha senso logico e soprattutto per un gioco simulativo non deve essere una guerra a tenere la macchina dentro la pista ma la guerra deve stare nel sì non esagerare però cercare di fare le migliori traiettorie cercare di allungare un po' la frenata la staccata non che se tu esci fai una esci un po' dai bordi una sbavatura ti trovi che ti giri perché condizioni di pista ottimali e gomme calde cioè voglio dire che qui non c'è più scusa allora mi sono posto la domanda e quindi ho ripetuto la stessa combo però su assetto corsa assetto corsa è immediato è un po' meno impietoso che progettare nel senso che non si può tantissimo esagerare nella guida si può essere aggressivi però in un certo limite però si sente sta naturalezza sta risposta sto force feedback che comunica con voi di quello che sta realmente succedendo e quasi anticipa quello che sta per succedere e infatti mi sono detto è questo il problema quello che non mi spiegavano nel primo video è questo è che veramente il force feedback allora ho seguito i consigli max pain e sono andato a scaricarmi sto file personalizzato non è miracoloso però qualcosa cambia mezzo giro riesco a farlo anche se si gira random così sta magari sta macchina perché poi ho provato anche la renault rs01 e quella non si gira mai non si gira mai però cavolo quella combo lì quella macchina lì la huracan non si può guidare ragazzi è come se non c'entrasse secondo me non ho sbagliato qualcosa nel calcolo della fisica l'algoritmo funziona male non lo so ma non mi voglio impuntare perché è solo questa macchina perché praticamente mi succede con un gran numero di macchine cioè voglio dire è questo che mi che che non riesco a capire e che mi fa incazzare e lo sapete quindi si migliora con effettivamente infatti ve lo consiglio ringrazio anche max pain per avermi consigliato questo file da scaricare poi ci sono più file lì dentro è semplicissimo da installare perché migliora è un po più rigido comunica meglio però ancora manca quella anticipo del comportamento lo scivolamento laterale fatto che stia partendo sul posteriore quindi uno per dire una cosa che che mi ha impressionato è che a imora a un certo punto si tiene la macchina si sente sta per partire ma mantenendo la posizione dello sterzo si riesce a mantenere la traiettoria senza che se ne vada e questo l'ho fatto su assetto forza con il nuovo file sono riuscito più o meno anticipato poi si è girata lo stesso vabbè io vi ripeto magari sono io sono veramente una tipo sono troppo esigente non lo so però 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 secondo me ancora project car 2 ha dei comportamenti anomali ditemi cosa ne pensate perché potrei anche fare il video paragone dove mi giro su assetto corsa in una determinata situazione in cui devo girarmi perché è normale che mi giro vado in sovrasterzo su un cordolo e accelero la macchina si gira ma no che sono in decelerazione a 50 all'ora mezzo cordolo manca accelero dritta la macchina e si gira ma che no oppure provate a prendere una macchina stradale andate a 50 all'ora senza accelerare su un cordolo reale non vi girate non è possibile boh e quindi sono tornato a farmi qualche giro su assetto corsa e vi dico che l'ho apprezzato tantissimo perché l'avevo messo un po da parte perché realmente il feeling con il volante è presente qua e allora per sincerarmi che non ne avevo detto baggianata nel video precedente ho fatto parecchi test ho anche testato quindi questo setting personalizzato del force feedback ho provato con gli aiuti senza aiuti niente non va bene ragazzi la huracan la dovete ripare slide di man di studio va bene ragazzi io penso qua abbiamo fatto il giro avevo il piacere di condividere con voi quest'ultima mia esperienza di discutere un po con gianni soprattutto e nicola che abbraccio tantissimo ringrazio max pain per il commento e per il suggerimento continuerò a dirvi le evoluzioni delle mie esperienze su project car spero che possiate commentare condividere con me le vostre opinioni e magari darmi consigli come ha fatto max pain che fa sempre piacere ragazzi come al solito un abbraccio fortissimo a tutti vi ringrazio per avermi seguito pollice in su iscrivetevi è gratis da fabbris è tutto alla prossima ciao